Buongiorno, ben svegliati. Ben ritrovati con la nostra rassegna stampa di mattino 6, siamo pronti per andare a leggere i principali quotidiani, non solo abruzzesi ma anche nazionali, per vedere le notizie più importanti che arrivano dalla nostra regione e soprattutto dall'Italia di questo martedì 25 settembre. Ovviamente in questa prima parte spazio alle prime pagine dei giornali, cominciamo come di consueto con quelli di casa nostra e dalle quattro edizioni del centro che oggi sceglie di aprire in tutte e quattro edizioni con i fatti di Lanciano e con l'aggressione ai coniugi Martelli. Ecco qua la prima pagina, questa è di Pescara ma vi anticipo già che tutte e quattro edizioni aprono allo stesso modo con questo titolo. Carlo e Niva, violenza assurda, parlano i coniugi Martelli dopo la notte di paura, pensavamo di morire. Caccia aperta ai quattro banditi, la polizia visiona i filmati delle telecamere. C'è il commento di Piero Anchino, vittime di una società senza difesa. Questi sono i coniugi Carlo Martelli e Niva Bazzan ricoverati all'ospedale Renzetti di Lanciano dopo l'aggressione subita nella loro villa. Peraltro poi ascolteremo anche un'intervista proprio a Carlo Martelli. Sotto la grande foto dei due coniugi siamo a Pescara, ovviamente, caos menze, genitori in consiglio. Pescara protesta in comune, slitta il tempo pieno, il sindaco si parte il 15 ottobre. Vediamo i box, multe per la ZTL, siamo sempre a Pescara in 3.000 senza permessi per via Regina Margherita. Sempre a Pescara, casa della droga sgomberata, la polizia chiude gli accessi. Per la politica, notizia interessante questa, verso le regionali perché Forza Italia dà lo stop ai primi nomi della Meloni. Da Nazario Pagano arriva lo stop ai primi nomi trapelati dalle stanze di Fratelli d'Italia per il candidato governatore del centro-destra. In basso, ovviamente, il Pescara tenta un altro colpo. Questa sera l'Adriatico e Biancazzurri all'assalto del Crotone. Turno infrasettimanale in Serie B. Il Pescara operaio, leggiamo, vuole continuare a correre stasera. Le 21 in casa contro il Crotone, terzo posto in classifica, 8 punti, 0 sconfitte. E la possibilità di agganciare il primo posto se dovessero arrivare i passi falsi di Verona e Cittadella. Nel primo turno infrasettimanale di Serie B, Pilon nel frattempo in difesa. Lancia, argentino, Ugo Campagnaro. Questa è l'edizione di Pescara del centro. Come vedete, l'edizione di Chieti-Lanciano vasto apre allo stesso modo. Allora noi ci soffermiamo prevalentemente sulle altre notizie, che sono quelle che troviamo sotto la fotonotizia. Per esempio, visto che siamo a Chieti, chiude il Teatro Marrucino. La regione non versa i 500 mila euro promessi, allora c'è lo stop agli spettacoli. Scendiamo nella parte sud della nostra regione. San Salvo, la Pilkington anticipa la cassa integrazione. A Lanciano, corso con la presentosa, il cratere cambia i lavori. Ritroviamo anche la notizia di politica nel box laterale. Allora scendiamo in basso con questa notizia che riguarda un ingegnere di vasto. Ecco il robot per i terremoti. Nuova impresa di Luca Muratore, ingegnere e ricercatore di vasto. Un androide per le zone a rischio. Leggiamo, sette mesi fa aveva fatto parte del pool di ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Arrivati a Los Angeles con un gioiello di ingegneria e robò vigile del fuoco. Adesso Luca Muratore, 28 anni di vasto, ingegnere e ricercatore. E tra i papà di centauro androide, concepito per salvare vite umane nelle zone terremotate. Un orgoglio anche per la nostra regione, ovviamente. Edizione di Teramo. Ancora cronaca sotto la fotonotizia dei coniugi in martelli. Banditi armati nell'area di servizio. Rapina al distributore Vomano Est. Coltello alla gola di un cliente. Due uomini incappucciati. Hanno minacciato anche la cassiera del bar locale, facendosi consegnare 500 euro. È successo nella notte tra domenica e lunedì sulla corsia nord dell'A14 nel territorio di Roseto. Nei box, atri, atto intimidatorio, spari contro le squadre della caccia al cinghiale. A Teramo, comune, gli uffici inagibili riaprono oggi in altre sedi. In basso, altra cronaca, accusato di stalking, anche di stalking all'ex moglie, insulta la suocera su Facebook. rinviato a giudizio per diffamazione un cinquantenne teramano. Questa è la notizia con cui chiude la pagina in basso l'edizione teramana del centro. Chiudiamo le quattro con quella aquilana. Siamo ad Avezzano. Danneggiate le auto del sindaco. Atti intimidatori anche contro le vetture di assessore e dirigenti. Sette auto danneggiate, leggiamo, forse dalla stessa mano per un identico motivo legato alla decisione del comune di spostare il mercato del sabato. Anti intimidatori nei confronti del sindaco di Avezzano, assessore e dirigenti. Poi ovviamente ci torneremo quando entreremo all'interno delle pagine. Siamo all'Aquila, museo delle ceramiche chiuso per la burocrazia. Capistrello invece, cacciatori di frodo, uccidono un cervo e allora in 15 finiscono nei guai. Sempre all'Aquila cade in cantiere grave un operaio recuperato dal tetto col verricello dell'elicottero del 118. Chiudiamo con le edizioni del centro. Andiamo sul messaggero. Ovviamente anche qui l'apertura è dedicata ai fatti di Lanciano massacrati per 2.000 euro. Arancia meccanica a Lanciano in uno sportello UbiBanca. I prelievi dopo l'aggressione ai coniugi Martelli. Due volte ripresi dalle telecamere, analogia con la rapina di San Vito. E poi parla la signora Niva, i feriti. Non credevo che stesse capitando a me. Non ho sentito, leggiamo, dolore perché stavano strappando, mi stavano strappando lo scotch dalla bocca. Ero atterrita, sentivo che saremmo morti. Quella ferocia pareva completamente reale. Mi chiedevo se davvero stesse capitando a me, a noi. Per i dettagli ovviamente poi entreremo, come detto, all'interno dei quotidiani. Saliamo in alto, sotto la testata. Teatro no. Siamo a Chieti, niente fondi. Il Marruccino chiude per protesta. Teatro sì. Abruzzo spettacolo e Riccitelli. Ma cambiamo ovviamente l'occasione. Siamo a Teramo. Una stagione super dopo la pace. Per lo sport, Serie B. Il Delfino a caccia del Triss. L'Adriatico arriva al Crotone. Dopo due vittorie, Pilon cerca conferme. Le novità. In difesa entra Campagnaro per Perrotta. Maccini per Canutè. E davanti gioca Antonucci. Di spalla per la politica. Verso il voto centrodestra. In rialzo, le quotazioni di Biondi. E vedremo poi se sarà effettivamente così. Se l'attuale sindaco dell'Aquila sarà veramente in pole position. Scendiamo in pagina. Il test fantasma arriverà in aula con i carabinieri. Colpo di scena. Il processo Maremonti. Introvabile. L'uomo accusato da D'Alfonso. Poi Teramano Neguai nel box. Offese social all'ex moglie e alla suocera. Ma, come vediamo, c'è il caos mense a Pescara. Il comune è pronto al forcing. Si va all'affidamento diretto. La protesta delle mamme che vedete riassunta in questa foto. Il sindaco Marco Alessandrini è pronto alla soluzione estrema. Come si fa in caso di grandi emergenze? Per avviare il servizio. Ieri l'incontro in comune con i genitori. In basso. L'Aquila rinasce. Palazzo Picalfieri. Il gioiello ritrovato. Cambiamo quotidiano. Andiamo in provincia di Teramo con la città. La CGL lancia l'allarme precariato. Per ogni posto fisso ce ne sono sei. A tempo determinato. Peggiora la percentuale nel Teramano. In alto sotto la testata per la Lega Pro. Siamo in casa Teramo. Cercasi disperatamente gol per il Teramo. Ancora senza reti realizzate. Rifiuti a Basciano. Introduce la tariffa puntuale a Colledara. In piedi sul Bustua. Anche in autostrada. Vediamo la fotonotizia. Notizia onore ai Zenobi. Colonnella nel Teramano. La migliore osteria d'Italia per tradizione. Allora complimenti davvero a questa osteria. Asfalti a sorpresa. Caos l'8-0. Siamo a terra. Ancora una volta a Cantieri senza preavviso. E il traffico ovviamente va in tilt. Comune sgomberato. Ballottaggio tra via Irelli e Palazzo Cerulli. E poi assurdo a Silvi. Serve un controllore per l'ascensore RFI. In basso Bosco Martese al Ceppo. Il 75esimo ricordo della prima battaglia della liberazione. Queste le prime pagine dei quotidiani di casa nostra. Andiamo sui quotidiani nazionali. Apriamo con il Corriere della Sera. Ovviamente il decreto sicurezza la fa da padrone. Sicurezza all'esame del Colle. Sia il decreto via il diritto di asilo a chi è condannato. Stretta sui permessi. Migranti. Salvini. Non abbiamo leso garanzie fondamentali. Buona fede. Ministro della Giustizia. Espulsioni automatiche. Evitate. Scendiamo con altre notizie per la manovra. Meno tasse. Debito più alto di maio. Coppiamo Macron. Vertice sui conti tra il Premier, il Ministro dell'Economia Tria e Franco. Vediamo adesso proprio sul Corriere della Sera. Entriamo all'interno del Corriere della Sera. Eccola qua. In primo piano la stretta. Vediamo del decreto sicurezza. Questo è il titolo d'apertura. Dal governo un sì all'unanimità. Al testo di Salvini con le norme sui migranti. Meno permessi di protezione umanitaria. Il Presidente della Camera FICO. Non usare solo il bastone. Il richiamo del Presidente della Camera. E poi all'acquirinale un esame severo dopo l'altolà sui punti critici. I rilievi in base alla carta. Tenendo conto della libertà. Della politica. E poi l'audio contro i tecnici del Tesoro. Ordine dei giornalisti un'istruttoria su Rocco Casalino. Portavoce del Premier Giuseppe Conte. Ma ancora sul decreto sicurezza. Ovviamente ci sono le parole del Ministro della Giustizia Bonafede. La norma ora è equilibrata. Io ho voluto evitare l'espulsione automatica. I magistrati dialogo ma no alle strumentalizzazioni. Questo il Corriere della Sera. Che poi ovviamente entra all'interno anche della manovra. Il testo corretto. E ci sono riassunti tutti i provvedimenti. Come saranno probabilmente licenziati dal governo. Vedremo se sarà così. Le incognite gara, copertura e tensioni. Le incognite sul decreto Genova. Il Premier arriverà oggi. La UE. Ritardi dovuti a noi? No. Piani non chiari. Queste sono le prime pagine del Corriere della Sera. Che vi abbiamo mostrato. Andiamo su Repubblica. Anche qui ovviamente. La questione migranti. La lineatura di Salvini. Allarme dell'Europa e dei Vescovi. Asilo limitato. Raddoppia la detenzione nei centri di rimpatrio. Il decreto all'esame del Colle. Poi polemiche sulla manovra. Illusione di Maio. Inseguire Macron al 2,8%. Ovviamente nel rapporto deficit-pill. Triada Conte per la mediazione sul deficit. E cercare di chiudere l'incidente. Casalino. I commenti. Il commento di Carlo Bonini. L'ideologia che cancella il diritto. Ovviamente riferendosi al decreto sicurezza. E poi per Genova. Il tempo si è fermato. Dice Sergio Rizzo. E poi il mito di Versace diventa americano. Alla famiglia 2 miliardi di dollari. Donatella Versace. Che qui vediamo. Insieme a modelle molto famose. Adesso i Versace dunque vendono agli americani. Anche in questo caso. Andiamo a leggere le pagine in primo piano di Repubblica. Eccola qua. Pagina 2. Migranti. La stretta di Salvini all'esame del Colle. E allerta. Il governo dice sì al decreto su profughi e sicurezza. Bruxelles fa sapere che verificherà la compatibilità con le regole europee. I vescovi. La politica. Non strumentalizzi le paure. Dall'altra parte. Quali saranno le norme? Ovviamente. Il dossier sul decreto sicurezza. L'asilo sarà più difficile. Protezione umanitaria. È concessa solo a tempo la norma ora più diffusa di permesso di soggiorno applicata a casi limitati. Raddoppia la durata della detenzione nei centri di rimpatrio. E poi come vedete intorno ci sono tutti i vari aspetti del decreto che vengono analizzati uno per uno. Cambiamo ancora quotidiano. Andiamo sul libero. Di Maio perde la borsa eppure la testa. Disastro. Il ministro in lite con se stesso. Il leader grillino non sa dove trovare i soldi per mantenere le sue promesse e vaneggia. Faremo un reddito di cittadinanza a colpi di debito. E se non basta stamperemo moneta alla UEFA o un regalo a Macron e lui può alzare il deficit per tagliare le tasse. Noi no. E poi di spalla Vittorio Feltri i deliri di un impiegato e una follia a prendere sul serio. È Casalino. A centropagina Versace si vende agli USA e incassa un paio di miliardi. La moda seguita a fuggire. Dall'Italia in basso sicurezza vince ancora Salvini. Abolito il permesso di rimanere qui. Ai falsi rifugiati tagli all'accoglienza. Il fatto quotidiano. Quei mega dirigenti di Economia e Tarra, servitori dello Stato e del gioco d'azzardo. Burocrate ieri al governo, oggi con l'ottomatica. E poi deficit. Tutti hanno sforato il tetto, da Forza Italia al PD, ma solo ora strillano allo scandalo di Maio. 2,8% come la Francia. Il decreto sicurezza è pronto, ma è sparito. Quello su Genova. Salvini abolisce i permessi umanitari. Meno diritti a chi chiede l'asilo. Il messaggero, edizione ovviamente nazionale, ritocchi al decreto migranti. Il governo vale il pacchetto sicurezza. Ultima trattativa per superare i rilievi del colle. Salvini, niente asilo. Se c'è condanna in primo grado. Via i campi rom. Entro un anno. Ma, che riguardi il calcio all'interno del decreto, segnale dopo il caos, il governo al calcio. C'è questa norma. I soldi TV in A e B solo con bilanci certificati da revisori Consob. Fa parte proprio del decreto sicurezza. La fotonotizia, la griff Versace all'americano Corse, colpo da 2 miliardi al Made in Italy. Donatella vende la Maisonne agli stranieri come Fendi e Valentino. Macron, siamo in Francia. Taglio fiscale, deficit alla 2,8 di maio. Copiamolo. Andiamo avanti. Il sole 24 ore, pace fiscale per decreto. Flat tax ferma ai 65 mila euro verso la manovra vertice a Palazzo Chigi su deficit in vista del compromesso all'1,8-1,9%. Si studia il taglio alle detrazioni sulle spese sanitarie con l'IRES più bassa a rischio l'ACE. La finanziaria di Parigi, deficit a 2,8% a 19 miliardi di sgravi alle imprese. E poi il petrolio che sfonda a quota 81 dollari. Per la moda Versace a Corse, ora i fondi puntano a rilevare anche Trussardi. In basso per il credito, maxi aumento di capitale allo studio di Deutsche Bank. Il mattino la Francia alza il deficit e Di Maio va all'attacco. Macron aumenta al 2,6-2,8% per tagliare le tasse a imprese e famiglie. Il vicepremier lo faremo anche noi e annuncia carcere per chi evade. E poi il decreto migranti e sicurezza. Stop all'asilo se condannati. Salvini, chiudo i campi Rom. Il giornale Immigrati si cambia, ma in compenso manette facili per gli evasori. Draghi, per colpa del governo, imprese e famiglie pagano di più i prestiti. La lezione di Parigi scrive Alessandro Sallusti. Macron sfora il deficit, ma a differenza nostra per tagliare le tasse. Versace venduta per 2 miliardi. Il colosso passa nelle mani USA. Donatella resterà in società. Il tempo. La pacchia è finita. Decreto sicurezza. Norme durissime per immigrati irregolari e che delinquono. Stretta sui rimpatri. Stop ai permessi per motivi umanitari e profughi vacanzieri. Salvini esulta e punta anche sullo smantellamento dei campi Rom. Braccio di ferro, tra partiti e tesoro, pensione e fisco, lite di governo sulle virgole. E poi, a centro pagina, la fotonotizia di Francesco. Va cacciato o no? Ovviamente siamo sul tempo. Giornale romano, capitolino, che punta molto sul futuro del tecnico abruzzese della Roma. E c'è questa foto con il presidente James Pallotta, presidente della Roma. Sembrano volersela giocare a morra l'eventuale permanenza. Il dramma di Re Bibbia. Prima ha gettato i figli da scale, poi ha infierito. Aghiaccianti dettagli sul raptus di follia della detenuta che ha ucciso i suoi bambini. La stampa, stretta sull'asilo e più espulsioni. Ecco la sicurezza secondo Salvini. È revocata la protezione dopo la prima condanna, ma fico attacca. Servono diritti, non solo bastone. E poi c'è il commento di Sofia Ventura. Quel confine tra marketing e governo. A centropagina manovra il deficit all'1,9%, vale 5 miliardi in più il compromesso fra i partiti e il ministro Giovanni Tria dell'economia. La verità, passa la stretta sugli immigrati Salvini. Adesso tocca ai Rom. Basta con i permessi umanitari e revoca dell'asilo in caso di gravi reati. I sedicenti costituzionalisti criticano, ma sono misure di buonsenso, come la legittima difesa. L'urgenza l'hanno concessa per gli 80 euro di Renzi. Sia all'unanimità, dunque al decreto sicurezza. Nella fotonotizia c'è Giorgia Meloni. L'intervista, vi spiego come sarà il nuovo partito di destra. L'intervista con il leader di Fratelli d'Italia. E poi Macron riaccende la guerra del deficit. La Francia annuncia che arriverà al 2,8% per fare tagli fiscali, mentre pretendono che l'Italia resti inchiodata all'1,6%. Riparte l'assedio a Tria. Di Maio, sforiamo anche noi, siamo un paese sovrano. Il secolo c'è il decreto Salvini con l'hashtag Sono felice un passo avanti per rendere l'Italia più sicura, per combattere con più forza mafiosi e scafisti, per ridurre i costi di un'immigrazione esagerata. In basso, Macron abbassa le tasse. Di Maio faremo uguale. E caos, cassa integrati, scambio di accuse PD, Movimento 5 Stelle. E poi le parole di Giorgia Meloni, proprio sui fatti di Lanciano. Di Chieti marciscano in galera. Meloni sui ladri di Chieti, tolleranza zero. Leggiamo. Giorgia Meloni è durissima nel commentare l'aggressione modello arancia meccanica alla coppia di Lanciano in provincia di Chieti, sequestrata e picchiata nella propria villa con una violenza inaudita. Adesso andiamo sulle pagine di sport, partendo con la gazzetta dello sport e con questa crasi nuova con cui ha Ronaldeschi, Bernardeschi contagiato dalla presenza di CR7. Lo imita un po' ed è cresciuto. è Cristiano con 42 tiri e il giocatore che conclude di più in Europa. All'inizio, leggiamo, c'era Di Baldo, ora alla Juve c'è un nuovo tandem. Poi questa bella notizia, Bonucci porta il figlio a giocare nel Torino, sapete, uno dei due figli di Bonucci, il tifoso del Toro, nonostante il papà, insomma, sia tanti anni, a parte una parentesi nel Milan, sia leader della Juventus, ma evidentemente ha intrapreso la strada granata. E poi in casa Milan, senza difesa, tanti blackout, Milan che guai per Gattuso, in alto inizia il turno infrasettimanale in Serie A, Inter, mai dire gol, club furioso, ricorso per avere Spalletti stasera con i Viola, Spalletti che per questa esultanza contro la Sampdoria è stato squalificato per un turno precedente, difficile da gestire, ha detto in conferenza stampa proprio il tecnico. Nerazzurro in basso, una notizia che riguarda il ciclismo, ciac si, giro, partenza da Bologna, allora l'editoriale di Andrea Monti, la dotta, Bologna diventa, rosa, l'Emilia Romagna, protagonista della prossima, corsa rosa, con cinque tappe, addirittura. Il Corriere dello Sport, vicini, vicini, sabato è già Juve-Napoli da scudetto, Ronaldo Ancelotti di nuovo nemici, dopo i successi in coppia con il Real, e questo abbraccio proprio ai tempi del Real Madrid. In alto, Spalletti vede Viola, stasera l'anticipo Inter-Fiorentina alle 21, il tecnico ricorre subito contro la squalifica per atteggiamento provocatorio, e dice un precedente pericoloso, in basso, siamo in casa Roma, avanti con D-Fra, il derby sarà decisivo, Roma nel caos, contattato Paolo Sosa, ma il club aspetta fino a sabato, senatori sotto accusa, Dzeko rischia. E poi in casa Milan, Leonardo Avvisagattuso, questo Milan a fretta, Coppa e campionato, siamo in Inghilterra, Sarri, doppia sfida al Liverpool, e poi, sorriso Italvolley, girone da finale, domani a Torino la Final Six, gli azzurri con Serbia e Polonia, Gian Lorenzo Blengini, dice, c'è equilibrio, ovviamente in bocca al lupo, alla nazionale azzurra di pallavolo, chiudiamo con tutto sport, con Pogba, Pogboom, vuole la Juve, nuovi messaggi antimurigno, del centrocampista, del Manchester United, che vorrebbe raggiungere i suoi, ex compagni, in bianco-nero, e poi, altre notizie, nei vari box, e sono tanti, per esempio questo, Massaro, che dice, Berlusconi porterà il Monza, in A, Monza che è, proprio nel girone B, di serie, ci vedremo se poi sarà, sarà così, se rileverà, il Monza, e poi in basso, Vittorio Feltri, e Ancelotti, l'asso del nuovo Napoli, e poi Massimo Franchi, i francesi copiano il nostro Golden Boy, ci fermiamo adesso, previsioni del tempo, la pubblicità, e poi rientriamo, per entrare, per l'appunto, all'interno dei quotidiani, di casa nostra, tra poco. Seconda parte di Mattino Serie, entriamo per vedere, le principali notizie all'interno, dei nostri quotidiani, ripartiamo con il centro, che apre la pagina abruzzese, con la corsa alle elezioni regionali, vediamo, così Forza Italia sfascia i piani della Meloni, il nome di Pagano ha tutti i nomi trapelati, dal sindaco Biondi alla Morgia, e Russo, per Fratelli d'Italia, dunque la strada è in salita, e di primio, leggiamo, è pronto, annuncia, pronto a fare altre scelte, vedremo poi come saranno i piani all'interno del centro-destra abruzzese, andiamo adesso a Pescara, la protesta in comune, mense, i genitori in consiglio, il sindaco, il via, dal 15 ottobre slitta l'apertura del tempo pieno, domani la risposta della terza ditta in graduatoria, e proprio su questo argomento, noi vediamo il servizio preparato dalla nostra redazione. La linea che noi abbiamo è quella di allineare il tempo pieno alla ripresa del servizio mensa, ovvero, traducolo, dico meglio, il tempo pieno dovrà ripartire con la ripresa del servizio mensa. La richiesta dei genitori avanzata nei giorni scorsi di legare l'avvio del tempo pieno al servizio mensa è stata fatta propria dal comune, anche se i comitati delle famiglie chiedono di partire dal 1 ottobre sfruttando la possibilità di portare il pasto da casa, opzione quest'ultima che dovrà essere oggetto di opportuni regolamenti scolastici. Ma il caso mensa del capologo adriatico è tutt'altro che chiuso, anzi, inchieste giudiziarie e cause civile di risarcimento a parte, si attende per metà settimana alla risposta della serenissima ristorazione, la terza classificata nella gara d'appalto vinta da Cirfood Bioristoro, interpellata dopo il no della Camst di Bologna, dovuto al mancato accordo con i lavoratori sulla riduzione del Monte Ore. Se anche l'azienda vicentina dovesse rinunciare, il sindaco Alessandrini del Consiglio Comunale odierno ha annunciato le prossime mosse dell'amministrazione, ribadite anche nell'incontro con una delegazione del Comitato dei Genitori durante la sospensione dei lavori dell'assise. A prescindere dall'esito che avrà all'interpello con la terza classificata, dica essa sì o dica essa no, potrà nella terza settimana del mese di ottobre, quindi dopo il 15, avere un esito positivo. Questo come? Attraverso naturalmente procedure di legge, procedure giuridiche che tengano conto di questa ulteriore complessità. Dall'opposizione, prima della sospensione, è arrivata una richiesta, date certe sul riavvio del servizio sospeso dopo la tosse-infezione del 2 giugno scorso che ha portato in ospedale 200 bambini e ragazzi. Purtroppo, senza fare nessuna polemica, non abbiamo ancora percepito la certezza sulle date, sui tempi e su quello che accadrà nei prossimi giorni. Ed è quello il problema che centinaia, migliaia, quasi 5.000 famiglie pescaresi soffrono in queste ore. La preoccupazione dei genitori per gli effetti della tosse-infezione, la rabbia verso la Cirfood Bioristore non solo, è comunque sempre tanta. Si chiedono maggiori controlli per la tutela dei bambini. Io sono il papà di una bambina che è stata coinvolta in questa tosse-infezione alimentare piuttosto grave, perché a tutt'oggi non si sanno gli effetti a distanza di questa patologia. C'è stata una grossa irresponsabilità, una grossa leggerezza da parte dei responsabili, non solo della Cirfood, a mio parere, e stiamo aspettando che il Comune, l'amministrazione e le scuole siano in grado di garantire per il futuro una società che, oltre alla ristorazione, sia in grado di fare dei controlli molto, molto serrati e seri. Alessandrini però nel suo intervento è voluto tornare proprio sulla vicenda del 2 giugno e sull'atteggiamento della Cirfood Bioristoro durante e dopo l'emergenza. La ditta con cui noi abbiamo risolto il contratto ha ritenuto, e non aggiungo aggettivi per decenza, di citare questa amministrazione comunale in un giudizio civile risarcitorio per oltre 12 milioni di euro. Trovo che davvero questa vicenda sia emblematica di come manchi più che mai quel senso che ti porta a far arrossire le gote che si chiama vergogna. E allora rimaniamo sulla questione Mense in piazza con pentole e cucchiai. Giovedì toccherà ai bambini, rimaniamo sempre sul centro. In basso, nuovo sito in mercatino etnico, invece fermo al palo. La questione Mense la troviamo anche sulla pagina di Pescara del messaggero. Mense spunta l'affidamento diretto, esplode la protesta del comitato dei genitori e cuoche. Il sindaco Alessandrini incontra oggi i dirigenti scolastici e svela il piano B. Se tra domani e giovedì la Serenissima non accetta l'incarico, sarà avviata una procedura che allenta i vincoli dell'appalto. Il dubbio, vediamo, strappo eccessivo e forse evitabile, e la CIR reclama, come avete sentito, nel servizio 12 milioni. In basso, in ferie, per seguire i miei due figli, verserò lo stipendio alla babysitter, la vita complicata e toni drammatici da chi è costretto a giorni a subire le conseguenze di questo disservizio, ovvero della mancanza della mensa. Torniamo sul centro, rimanendo a Pescara, poi ovviamente apriremo un'ampia pagina dedicata ai fatti di Lanciano. Multe con telecamere in 3.000 senza permessi, sabato prossimo scattano le sanzioni, sono in regola. Sinora solo 1.000 residenti, qui vediamo le regole per la ZTL riassunte nello specchietto con domande e con le risposte per chi ovviamente ne volesse sapere di più. In basso, Movida di nuovo senza controlli, torna alla protesta in Via Battisti. Sabato notte un ragazzo è stato pestato e nessuno è intervenuto. Costruzioni abusive sulla Tiburtina. Ecco le case dei disperati. Le forze dell'ordine allontanano una decina di occupanti, scoperte strutture fatiscenti realizzate con materassi. E queste sono, vedete, quelle strutture di cui parlavamo, riassunte molto bene in queste foto. E poi in basso, l'addio alla professoressa Mastrangelo, Antonella, un onore aver avuto un insegnante come te. Tangenti H, livello, nega mai favorito alcuna ditta, il direttore tecnico dell'H si difende a processo sui presunti appalti truccati affidati all'azienda dell'acqua, sentenza il 21 gennaio, imputato anche di Cristofaro. E poi funerali di disc giochei, lacrime sotto la pioggia, per l'addio a Goffredo Travaglini. Adesso torniamo sul messaggero, sulla pagina di Pescara. Continuiamo a vedere, dopo le menze, l'arte al servizio del Vangelo nel Jobel Festival. Da oggi a domenica nel Chiostro, in piazza Spirito Santo, le Biblio Experience, promosse l'insegna del rinnovamento. E poi la mala del weekend, spaccata all'agenzia di scommesse Better, l'addio a Travaglini, il pioniere dei DJ, amava la musica e la sua Pescara. Poi altro lutto, ciao Antonella, la prof che pedala tra gli angeli. Mare Monti, il super test si eclissa, ha ordinato l'accompagnamento coatto per Giuseppe Cantagallo, il grande accusatore, imputato a sua volta di estorsione ad Alfonso, avrebbe chiesto 130 mila euro all'ex governatore per aggiustare la sua deposizione. Ma per la seconda volta non si è presentato. Lo scandalo H, parla il direttore Livello, eravamo assediati dalle aziende a caccia di soldi. E poi a Montesilvano, effetto Bronx, ladri in trasferta, bloccati nella notte, sono pugliesi. In basso, altre notizie che riguardano Montesilvano, street art, antidegrado, nuovo murale firmato da Pita. Il restyling, il campo di Via Foscolo, torna agli antichi fasti. Qui siamo all'Aquila, Gran Sasso, i soldi non bastano. Biondi chiede altri 8 milioni. La cifra arriva a seguito della progettazione degli interventi di sviluppo e rilancio dell'area. Ulteriori 800 mila euro andranno all'albergo e 4 milioni per la cabinovia di Monte Cristo. Le reazioni di Libera Inutile dal comune fuffa elettorale. Queste le reazioni di Enrico Perilli, membro della segreteria regionale di sinistra italiana. Scoppito, inaugurato il nuovo asilo nido, ospiterà fino a 25 bimbi. In basso, gli ultras diventano operatori sociali nella Onlus. 5 tifosi dell'Aquila Calcio hanno ottenuto la messa alla prova dopo gli incidenti di Francavilla. Francavilla, li ricorderete di un anno fa, fuori allo stadio Valle Anzuca, prima della partita di calcio di Serie D. Palazzo Picalfieri, risplende il gioiello, terminato il restauro sabato pomeriggio. L'inaugurazione con un'anteprima nazionale. La mostra antologica di Bonanni sono voluti tre anni per restituire alla città quello che è sempre stato un luogo d'arte, di cultura e forte aggregazione nel corso dei secoli. Il blitz controllo nas sulle ambulanze e riscontrate delle irregolarità, anche delle carenze nella sede dell'associazione proprietaria del mezzo di soccorso. Andiamo avanti. Università, c'è il rilancio, siamo ad Avezzano, De Angelis e Teramo annunciano iniziative. La nuova sede sarà all'interno dell'ex Crabb e verrà arricchita, oltre a giurisprudenza, di altre facoltà consone al territorio. C'è l'ok degli studenti. Vogliamo creare, leggiamo, un polo che potrebbe diventare la quarta realtà della regione. E per quanto riguarda il sindaco, danneggiate le auto di sindaco e dirigenti. A Castel di Sangro, invece, di Spalla, scuola e slot machine, una raffica di furti. Siamo a Sulmona, al Trategola, le società sportive fatte fuori anche dalla palestra della scuola di Stefano. Ad Avezzano, nuovo mercato, nessun margine di discussione. A Chiedi, teatro Marruccino chiuso per protesta, non sono arrivati i 500 mila euro promessi dalla regione, salta la stagione lirica, così non possiamo firmare contratti. Di primo, Sigare e Di Martino annunciano il finanziamento del comune, non è sufficiente a garantire la sopravvivenza. Vero, una brutta notizia. Il sindaco 2, il caso 2, il sindaco, la candidatura al governatore, sfumata, ritiro le dimissioni il 4 ottobre. Marzoli del PD lo invita a confermare l'addio, basta Tarantelle, vecchio stampo. In basso, pestaggi con la mazza da baseball, condannati, aggressione vicino al pub, tre anni a surricchio, ma non fu tentato. Omicidio. E poi, incidente fatale, Emiliana e Marco, oggi le autopsie, l'esame all'ospedale Niguarda di Milano, il risultato sarà un tassello in più nella ricostruzione dello schianto. Due comunità tendono di poter salutare per l'ultima volta i propri amici, i funerali domani o giovedì. Questi due sfortunati ragazzi. In trasferta pendolare del furto, ruba profumi per 600 euro, arrestata la 39enne in basso ad Ortona, mercato coperto e comune e polemica, dimenticati gli accessi per i disabili. A Teramo, a stagione teatrale, targata Pagliai, pace fatta tra il gestore del comunale Abruzzo Circuito Spettacolo e la Riccitelli, presentato ieri il programma di prosa congiunto, un cartellone composto da otto appuntamenti che mira a raggiungere 2400 abbonati con il direttore artistico di sempre. In vista c'è per i trasporti invece l'accordo Flixbus e Baltour, sindacati e diretti interessati non commentano in basso, fese social a moglie e suocera e allora finisce nei guai. Per gli uffici comunali invece siamo a terra. Ecco i trasferimenti da Palazzo Pompetti. Bora Bora, via le opere abusive, demolite le parti eccedenti del Bistro, ho speso tutte le mie risorse in questa struttura, dice Riccardo Campeti. Ho avuto comunque tanta solidarietà dai miei concittadini e ringrazio il gestore Pietro Cercuone per l'ottimo lavoro svolto. Garrufo centra un 5 al superenalotto e vince 97 mila e rotti euro, tra le urla del bar in basso. Primi 100 giorni del sindaco Casciotti, siamo all'Albadriatica. Mare blu, rifiuti e il decoro in città, in Martinsicuro. Nuovi distributori d'acqua in tre punti di Martinsicuro. Ma adesso andiamo sulle pagine di Chieti, o meglio di Lanciano, e sulla rapina shock nella villa. Noi in un film horror pensavamo di morire, parlano il medico Martelli e la moglie Niva, sequestrati e seviziati in casa, ieri di nuovo insieme in ospedale, dopo la notte di botte e terrore. E allora andiamo ad ascoltare le parole proprio di Carlo Martelli. Cosa si sente di dire giorno dopo questa cosa gravistica? Beh, dicevo, ho detto a tanti questa mattina nelle interviste che ci siamo salvati, insomma, perché durante l'accaduto il nostro terrore, anzi quasi una certezza, eravamo convinti che ci avrebbero fatto fuori alla fine. E tutta questa crudeltà, poi alla fine, visto che non c'era la cassaforte? Eh, ma è stato probabilmente, non so, qualcuno mi ha detto che potrebbe essere una norma, nel senso che l'aggressione forse convince di più a fare in fretta, nel senso che uno confessa prima dove sa quello che deve dare, però purtroppo per loro e noi non avevamo la cassaforte. Ed era già risaputo, perché ci hanno già fatto lo stesso servizio qualche anno fa. Quando avevate il sistema di allarme? Avevamo l'allarme, quindi da allora poi non l'abbiamo più rimesso, perché tanto a che serve. Ovviamente. Come sta sua moglie? Mia moglie sta bene, ho venuto a trovarmi poco fa, aspetta, siccome ha avuto un'alterazione degli enzimi cardiaci, è stata portata in unità coronarica e adesso aspetta il controllo in cui diventi negativo questi enzimi e poi in futuro vedrà se vuole ricostruire o meno l'orecchia. Ma c'è un po' di traumi facciari, c'è un po' di cervicanza. E lei come sta? Io ho un po' di fratture piccole, ho il viso un po' rovinato, non posso mangiare bene perché le mucose sono lesionate all'interno della bocca, ho una frattura di una vertebra cervicana, insomma devo rifare la risonanza magnetica domani. Si considera un sopravvissuto praticamente? Beh sì, però dico meno male che è passata. Il suo sentimento verso queste persone? Cioè questa è la cosa più difficile che si può esprimere. Io ce l'ho con chi mi ha fatto male. Però se devo dire che se incontro una persona per strada che mi ha fatto male poi sarei capace di reagire? No, non sarei capace. Nonostante tutto. I suoi doti di umanità si conoscono, le suoi doti anche di bontà, quindi questo si aspetta, sa che la gente si è aperto un grande dibattito, molti vogliono sapere, erano italiani, erano stranieri, chiaramente lei... Allora, parlavo, l'unico che ha parlato parlava un perfetto italiano, ma se poi era uno straniero che parlava bene l'italiano non ho idea. Di sicuro non aveva un intercalare che potesse far pensare a una persona straniera oppure di un'altra regione. E c'è stato anche un minimo di umanità in uno di questi delinquenti? Ha avuto una particolare attenzione, non so per sua caratteristica personale forse, però aveva la ronchetta in mano mentre ci accudiva, ci sorvegliava e nello stesso tempo ha preso l'acqua senza che l'abbiamo chiesto, ha preso il bicchiere, ci ha offerto da bene e poi ha avuto il sospetto che alla fine forse sia stata pure lui la mano che prima di fuggire hanno, ci hanno riaperto la porta girando la chiave dove ci avevano chiuso. Per cui probabilmente c'era un buono fra di loro. Tra i dibattiti che si sono aperti in queste ore c'è anche quello sulle armi, sulla difesa privata? Io non so dare un giudizio che ha senso, nel senso che io non sarei capace né di possedere un'arma né di sparare a qualcuno. Per cui bisognerebbe essere capace di discernere chi è in grado di possedere e utilizzare un'arma al bisogno. Ciò non toglie che se io ieri sera avesse avuto la possibilità di avere un'arma, un coltello o qualsiasi cosa, l'avrei usato. Gli hanno detto qualcosa prima di andare via? Sì, ci hanno detto la battuta. Dice voi però se vi viene in mente di mettere la cassaforte tenete presente che noi siamo qui attorno, fate un cenno. Questa è la testimonianza di Carlo Martelli direttamente dal letto dell'ospedale Renzi e TD Lanciano. Continuiamo a leggere perché in basso è polemica sulla legittima difesa. Meloni, fratelli d'Italia, tolleranza zero per questi criminali. Martina del PD dice no al Far West. Il manager dell'Asle in Malafede chi parla di ritardo nei soccorsi. Pasquale Flacco replica alla polemica sollevata da Mauro Febbo. Torniamo sul messaggero, proprio su questa notizia. I volti dei due banditi nelle immagini dello sportello Ubi. Arancia meccanica a Lanciano e coniugi martelli massacrati per un bottino di solito 2.000 euro. Otto prelievi in un quarto d'ora dalle telecamere. L'aiuto alle indagini. Le reazioni e scontro tra i partiti sulla legittima difesa, come spesso accade in questi casi. Allo studio, le molte analogie con il precedente di marzo scorso, un commerciante fu infatti amputato un dito. Il dramma anche di Niva, la moglie, pensavo di morire. Poi la confusione e la disperazione. Non vuole vedere neppure le amiche che la cercano. Lei è sconvolta. Basta sfiorarla perché sobbalzi, ovviamente. Andiamo avanti, torniamo sul centro. Come avete visto, Chieti, la grande beffa del bicentenario. Marroccino senza soldi, scatta la chiusura. La regione non versa i 500.000 euro promessi. L'istituzione si ferma. 14 dipendenti a rischio di licenziamento. Niente, spettacoli. Sicari, atto deliberato, ma senza movente. E poi, a Teramo, occupazione e contratti di lavoro sempre più precari. Diminuiscono quelli a tempo indeterminato, dilagano quelli pirata, che prevedono meno diritti e stipendi più poveri. Questo è un allarme lanciato dalla CGL. In basso, insulta la suocera su Facebook. A processo, 50enne, Teramano, accusato di diffamazione e stalking. Anche nei confronti della ex compagna. Rapina con i coltelli nell'area di servizio. In due armati e incappucciati. Il rompono. Nell'autogrill Vomano Est della 14. Arma puntata alla gola di un cliente. In alto gioca 5 euro al Super Enalotto. Garrufo di Santomero. E ne vince 97.000. Beato lui. In basso, gli attori difendono l'occupazione dell'ex OVS. In aula parla grazie a Scucci Marra. In quel posto si faceva cultura. La sentenza slitta al prossimo gennaio. Nuovi attentati a chi abbatte i cinghiali. Atri, colpo di pistola a scopo intimidatorio contro i selecontrollori. Spaccati gomme e finestrini dell'auto di uno dei referenti. In basso, a Pineto. Non chiudete gli stabilimenti. Il presidente dei balneatori invita i colleghi a prolungare la stagione. All'Aquila comune, anzi ad Avezzano. La pagina dell'Aquila, ma la notizia riguarda Avezzano. Comune sotto attacco. Danni a sette auto. Colpite le verture del sindaco. dell'assessore Silvagni e degli altri amministratori. Episodi legati al trasferimento dei banchi mercatino e intimidazioni. Ma sul trasloco nella zona nord si va avanti. Uccidono un cervo a capistrello. In 15 finiscono nei guai blizzi dei carabinieri forestali. Mentre il gruppo di bracconieri faceva a pezzi l'animale. All'Aquila operaio cade dal cantiere grave recuperato col verricello dell'elicottero del 118. A Roio Poggio, indagini degli ispettori del lavoro. Museo chiuso per colpa della burocrazia. L'Aquila da anni inaccessibile a più grande collezione di ceramiche nell'ex convento San Domenico. Prima di andare allo sport andiamo in provincia di Teramo con la città comune sgomberato. Vedete che c'è un ballottaggio tra Palazzo Cerulli e Via Irelli. Aspettando la soluzione definitiva agli impiegati dell'ufficio tecnico da oggi. Temporaneamente al Parco della Scienza. La CGL, come avete visto, rilancia l'allarme sul precariato per ogni contratto a tempo indeterminato in provincia di Teramo. Ne vengono sottoscritti ben sei a tempo determinato. Questo è l'allarme appunto del sindacato. Ex OVS. Come avete letto, a gennaio il destino degli occupanti. Fissata la data della sentenza per il processo che vede alla sbarra anche i maestri Enrico Melozzi e Mauro Bagliocco. L'8-0 per caos per gli asfalti a sorpresa. Dopo il caso dell'estate sulla Teramo Mare, lunghe code ieri mattina a causa dei lavori non annunciati però dall'ANAS e che dunque hanno colto di sorpresa anche parecchi guidatori. Università, Unite, rilancio per la nuova sede di Avezzano. Prima abbiamo visto la stessa notizia ma per parte marsicana. Il sindaco Gabriele De Angelis annuncia la nuova sede e punta alla creazione di un polo universitario per l'appunto marsicano. Andiamo avanti in provincia. 700 mila euro per le frane del 2013 serviranno per l'intervento dei territori di Campli, Tosticia, Cronialeto, Santomero e Bisenti colpiti dal maltempo. Andiamo allo sport adesso. Partiamo ovviamente con il centro, con la serie B. Perché? Pescara in campo, Pilon lancia Campagnaro, Canute fuori. C'è Maccina, l'Adriatico, arriva il Crotone, i Biancazzurri imbattuti, sognano la vetta della classifica. Però da parte calabrese stroppa ex. Vuole il colpo ma l'Adriatico è un tabù. Crotone accaccia il riscatto dopo il Capone col Verona. Però i precedenti del tecnico con la sua ex squadra non sono positivi. Benali, altro ex titolare, l'altro ennesimo ex Martella, Pinetese, invece è K.O. Vediamo allora il Pescara come potrebbe mettersi sul terreno di gioco. Ovviamente Fiorillo tre pali, Ciofani e Delgrosso sulle fasce in difesa, Campagnaro e Gravillon centrali di difesa. Abbiamo Shai, Brugman e Maccina, Mancuso, Monachello e Antonucci il tridente d'attacco. Vedremo se poi effettivamente sarà così. Ovviamente io vi ricordo, prima di continuare a leggere il nostro giornale, che questa sera certamente ci sarà diretta stadio. Un appuntamento assolutamente da non perdere con Andrea Costantini in studio, con i suoi ospiti e con Paolo Renzetti dallo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per il pre-gara, per la partita e poi ovviamente per le interviste. Tutto rigorosamente in diretta quando gioca il Pescara. Dunque non perdete, diretta stadio per seguire la gara dei bianco-azzurri contro il Crotone. E allora ne abbiamo approfittato anche per andare sulla pagina dello sport del messaggero. Pilon col Crotone a caccia del Trisse dopo due vittorie all'Adriatico, il Pescara teso oggi alle 21 all'esame con i calabresi. Campagnaro entra in difesa per Perrotta, Maccina per Canutè. Antonucci davanti, Stroppa il tecnico che divide, vuole riscattarsi. Il grande ex, e qui è proprio la foto quando Stroppa era sulla panchina del Pescara. In basso per il volley, Sieco domani il test con Potenza Picena. Dall'altra parte Teramo a Imola, ci sarà il turno infrasettimanale anche in Serie C, senza proietti, salvo miracoli nell'ultima ora, l'esperto atleta bianco-rosso non sarà. Dell'11 nel turno infrasettimanale di domani, proprio allo stadio Galli di Imola. Per la Serie D, va stese l'ora di ruggire nella tana della San Giustese, perché domani scende in campo anche la D, domani in casa della capolista Palladini. Basta stop alle delusioni. E chi invece invetta la classifica? Notaresco, Cudini felice, ma la testa è ad Agnone. Colpo del Giulianova, preso Torelli dal Carpi, il forte centrocampista, forse già disponibile domani a San Mauro Pascoli nella partita contro la San Maurese. I Nerostellati intanto in eccellenza confermano la fiducia a mister Colella. Torniamo sul centro per tornare sulla Lega Pro, ecco qua il solito problema, Teramo a secco di gol. Dopo due partite, i primi 180 minuti ripropongono i nodi della passata stagione, domani a Imola con Ventola e Zecca. La ipotesi persia. E poi boxe i nuovi campioni regionali in passerella. Cambiamo pagina, siamo in Serie D. Eccolo qua il protagonista, Shiba Pararigori Giuliese, anche domenica con Castelfidardo ha parato un rigore ai marchigiani, invece il notaresco vola con Liguori. Il portiere giallorosso dice, mi ispiro a Scesni. In arrivo il centrocampista Torelli, due turni di squalifica Cruz, toccherà a Sanchez guidare l'attacco del Francavilla. Domani si torna in campo. E allora ne approfitto, visto che ho dato l'appuntamento di questa sera con Diretta Stadio, ne approfitto domani per ricordarvi che ci sarà ancora Diretta Stadio nel pomeriggio per seguire le partite di Serie D e poi di Serie C con Imolese-Teramo. E l'abruzzo del pallone è come di consueto per farvi vedere le immagini. Questa era anche la nostra ultima notizia. io vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale, mattino 6 invece torna domani puntuale. Alle ore 8 è tutto, buona giornata. Grazie a tutti!